Ha preso il via venerdì 8 marzo dall'Aquila in Abruzzo l'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre check-up medici gratuiti organizzata dalla Fondazione Ania. Il tour si svolge a quasi dieci anni dal terremoto e toccherà dieci città del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria. L'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici punta a diffondere la cultura della prevenzione del vivere sano con postazioni per check-up medici gratuiti, quest'anno dedicati principalmente alle donne, come visite ginecologiche con consulto sulla menopausa, visite senologiche, visite per osteoporosi e rischio fratture e visite cardiologiche con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori. Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania. Il nostro obiettivo è quello di far capire come sia molto importante la sanità e come il sistema privato possa essere un supporto a quello pubblico, soprattutto in tutti quei casi in cui i livelli di reddito possono consentire di avere una quota parte che può essere anche investita nel migliorare la propria salute e nello stesso tempo per sgravare un po' il sistema sanitario pubblico che è fortemente pressato da una alta domanda e di una difficoltà nel poter dare sempre l'adeguata risposta. Nel 2010 l'Ania all'Aquila ha interamente finanziato la ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio distrutta dal sisma del 2009, dieci anni dopo il ritorno nel capoluogo abruzzese con lo street tour inaugurato alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi. Questo è un territorio che forse più di altri ha bisogno di acquisire consapevolezza del tema della prevenzione non soltanto in ambito sanitario ma anche in ambito sanitario perché i dati di questi territori, dei territori delle aree interne da questo punto di vista sono sconfortanti. sempre più gente non ricorre a cure mediche di cui avrebbe necessità moltissima gente non fa prevenzione per una questione di tempo e per una questione di costi e a pagarne le spese sono naturalmente le categorie che da questo punto di vista sono più deboli, più svantaggiate e fra esse ci sono sicuramente le donne. Nelle precedenti edizioni dello street tour sono stati effettuati quasi 12.700 check-up medici gratuiti in oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite più comuni hanno riguardato vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni preventive per malattie neurocognitive come l'Alzheimer. Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in piazza della Repubblica a Terni dopo aver toccato l'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli, Piceno, Ancona, Pesaro e Perugia.